Un uomo di 27 anni è stato fermato e arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Olbia e accusato di possesso e trasporto di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine nel porto Isola Bianca, al momento dello sbarco di una nave da Livorno, l'attenzione dei militari è stata catturata da un giovane alla guida di un'utilitaria. Il 27enne aveva con sé 7 kg di cocaina purissima, suddivisi in panetti da un chilo ciascuno, abilmente occultati all'interno del suo veicolo. I cani dell'unità cinofila hanno giocato un ruolo cruciale nell'identificare la droga, che era stata astutamente nascosta nel compartimento motore e nell'aria tra il cruscotto e il vano airbag sul lato del passeggero. Il valore della cocaina sul mercato, una volta tagliata e venduta, avrebbe fruttato circa un milione di euro. Dopo la scoperta, l'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa di reclusione di Nukis.